Benvenuti a questo nuovo video con una lettura dal latino che mi è stata richiesta da qualcuno di voi. Nel corso di questo video leggerò questo breve paragrafo tratto dal 28esimo libro all'86esimo capitolo della storia naturale di Plinio il Vecchio. Oltre alla lettura però, questo video serve per rimandarvi ad un link che trovate sia nella descrizione al video, sia nel primo commento tra quelli sotto al video e che vi rimanda a questo sito. Si tratta del sito di scuola.net all'interno del quale, seguendo il link, potrete trovare questo file ovvero la traduzione letterale con analisi parola per parola, morfologica e sintattica e con indicazione anche dei paradigmi di questo paragrafo che andremo a leggere. Ora vi mostro velocemente l'anteprima, come vedete troverete la traduzione letterale per quanto possibile e poi parola per parola trovate l'analisi morfosintattica e i paradigmi dei verbi. Quindi basta cliccare sul link e a una modica cifra potete acquistare l'analisi e la traduzione. Andiamo invece a leggere quello che è il testo. Plinio il Vecchio, storia naturale, libro 28esimo, capitolo 86. PONAM ENIM VEL MODESTISSIMUS E PROMISSIS EORUM Quanta vanitate si falsum est, quanta veronoxia si trasferunt morbos. Innocenziores ex is, omnium digitorum resigmina undum ad cavernas formicarum abici iubent e anque, que prima ceprit traere, correptam subnecticollo. Ita discutim orbum.